Sì, ma adesso io sono qui, mi eviterò di tornare domani. Ho anche l'abito di scena, mi permetto almeno di farlo. E farla vedere come mi sta, per favore, per favore, sia gentile. Sì. Grazie. No, no. Quando vuole, eh? Non le pare che sia sessista? Il signore Onipotente lo colpì e lo mise nelle mani di una donna. Io mi limito a citare il romanzo di Saker Masoch. E questo? Non abbiamo certo un tiziano qui, tesoro mio. È un bel porno sadomaso. Che... Per me è una pièce su due persone che sono unite per l'eternità. I loro cuori sono ammanettati l'uno all'altro. Ammanettati nella perversione? No, ammanettati nella passione. Sì, ma la passione è di lui. È chimica, è l'incontro di due persone che dà fuoco alle polveri. Questa è lotta di sessi, è lotta di classi. Vanda è una donna adorabile, innocente, che si imbatte in un gran pervertito. Ma allora non capisce, non capisce niente. Come può interpretare tanto bene Vanda e non riuscire a comprenderla fino a questo punto? Non ha capito niente. Stupida patrice del cazzo. Stronza!